Musica Venerdì 19 agosto, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. Si preannuncia una pesante battaglia tra sindacati e regione per l'attribuzione dei fondi destinati all'area di crisi. 90 milioni di euro che secondo Sergio Calce dell'Unione Sindacale di Base potrebbero finire ai cosiddetti amici degli amici e non ai lavoratori. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Sono 90 ai milioni destinati dal governo all'area di crisi del Molise. L'intenzione sembra essere quella di far ripartire l'economia finanziando le diverse iniziative imprenditoriali disponibili nella regione. Ma c'è un rischio da evitare, cioè che dietro il paravento delle nuove iniziative imprenditoriali si nascondano i soliti nomi forti che, in Molise, hanno sempre fatto incetta di finanziamenti pubblici, spesso ai danni della piccola imprenditoria e degli artigiani. Come fare per far sì che le ingenti risorse disponibili finiscano davvero nelle tasche dei lavoratori? Sergio Calce, segretario regionale dell'USB, un'idea ce l'ha, ma chiede agli ex GAM, ex ITR e disoccupati vari di mobilitarsi per fare pressione sulle scelte finali. Sull'area di crisi i 90 milioni devono andare assolutamente ai lavoratori perché la crisi l'hanno sofferta i lavoratori, parlo di GAM, ITR, Nulo Industriale, Pozzilli, Venavro, e non agli amici degli amici di qualcuno. Perciò noi siamo vigili, attenderemo, valuteremo, invito tutti i lavoratori dell'ITR a venire qui nella nostra sede, siamo a completa disposizione affinché i fondi vadano ai lavoratori e non, come dicevo prima, agli amici degli amici. Anche se c'è un bando su Invitalia bisogna tenere gli occhi aperti. La crisi la soffrono le famiglie, stanno a zero e noi lotteremo affinché questi soldi vadano a loro e non, come dicevo prima, agli amici di qualcuno in un contesto politico generale. Qual è la proposta dell'USB? Come dare i soldi a chi è senza lavoro? La proposta è che stiamo aspettando il BURM, sarebbe una scheda che ci deve arrivare per valutare chi sono i lavoratori e praticamente valutare uno a uno o su autoimpiego, su accompagno con gli ammortizzatori sociali alla pensione, oppure fare una valutazione a chi interessa di investire però che vengano ripresi questi lavoratori. Ma attenzione, i fondi devono essere destinati alle persone, ai lavoratori e allo sviluppo e reinserire quei lavoratori che hanno perso il lavoro. Ecco, qual è il messaggio che lancia l'USB a tutti questi lavoratori, GAM, ITR, Dirisio, Aria Industriale Pozzilli, Venafro? Cosa fare per mobilitare la piazza, Sergio Calce? Stare uniti, rimanere uniti, combatti, non disperdersi e noi siamo a completa disposizione. Uniti si vince, se ci disperdiamo si rischia che la politica faccia solo i propri interessi alle spalle delle persone e dei lavoratori. Io ritengo che questa dell'area di crisi, per i lavoratori, per qualche impresa seria che voglia investire, è un treno importante per la nostra regione. Non bisogna dispendere, noi saremo vigili, attenti e non molleremo affinché si riparta con lo sviluppo delle persone interessate. No, mi tocca dire ancora una volta di chi qualcuno vuole sempre inserire gli amici degli amici in un contesto politico regionale che purtroppo non funziona. Da Boiano a Sant'Elia Pianisi, da Agnone a Civitanova del Sannio, sono diversi gli appuntamenti con cultura, eventi e gusto nella giornata di oggi. Sentiamo le anticipazioni nel servizio di Giuseppe Carriera. Ricco il calendario degli appuntamenti di oggi, venerdì 19 agosto. Partiamo da Boiano, dove dalle 19 saranno impegnati circa 300 figuranti e 15 attori nel Versacrum e Rituali dei Sanniti. L'evento, organizzato dalla FIDAPA, è ricco di novità nel copione, negli spunti e nei percorsi storici che sono stati ulteriormente approfonditi. Abbigliamento, ornamenti, armature, elementi di scena, armi e oggetti maneggiati dai figuranti, sono frutto di minuziose ricerche condotte su saggi scientifici e reperti archeologici. Ad Agnone, la fase finale del prodotto topico 2016, un itinerario culturale gastronomico che ha attraversato 59 comuni di più regioni del centro-sud, in cui un comitato scientifico ha proclamato i prodotti identitari delle singole comunità. In tutto sono 66 le specialità che saranno protagoniste in queste fasi finali del concorso, tra il pomeriggio e la sera possibile degustare anche i prodotti dei comuni in finale. A Santeria Pianisi, la notte dei briganti, il borgo rivive. È la sesta edizione dell'evento in cui, in occasione del bicentenario della sua nascita, si ricorda l'intercessione di padre Raffaele, detto anche il monaco santo, per salvare un innocente. Nel programma un convegno nel pomeriggio, seguito dalla rappresentazione storica dell'episodio. In serata, cena nel borgo con tre diversi momenti di animazione, il gruppo folk popolare Squagliachium di Ripa Bottoni, il gruppo folclorico agnonese e il gruppo dell'Andocciata di Agnone. Infine, a Civitanova del Sannio, la prima delle due giornate dedicate alla coppa, il gusto da primato con carne di maiale con patate, cotta lentamente secondo un procedimento tradizionale, ossia in un recipiente di dimensioni eccezionali che viene posto su una base refrattaria e poi interamente ricoperto di braccio per alcune ore. L'evento continua anche domani, nella serata, musica dal vivo, l'organizzazione e dell'associazione Civitanovesi nel mondo. È tutto per la nostra informazione, adesso la rassegna stampa. Vediamo come titola il giornale del Molise, punto it, costi della politica, il Molise spende ancora troppo la ricetta dei 5 Stelle, l'articolo è a firma di Anna Maria Di Matteo. Emergenza migranti e minori al villaggio di San Giuliano, il senatore Ulisse Di Giacomo dice servono soluzioni ragionevoli. 62 anni fa scompariva il Cide De Gasperi, il ricordo di Gaspero di Lisa. Furti di rame, carabinieri arrestano quattro persone mentre rubano nel nucleo industriale di Pozzilli. E poi sempre carabinieri Isernia, medaglia d'oro al merito di lungo comando al maggiore Salvatore Vitiello. Poi San Pietro Avellana, la bate di Monte Cassino celebra messa per la festa di Sant'Amico. Il 28 agosto nuovo appuntamento con Molise in tour tra eremi, musei e borghi della lettura. Trasferimento degli insegnanti leva, la buona scuola non è stata poi proprio così buona, dice il parlamentare. Trasferimento docenti molisani, scarabbeo, così si ledono i diritti sia degli insegnanti sia degli studenti. Ci sono le altre notizie sul giornaliedelmolise.it, dalla Regione, dall'Italia e dal mondo, ma anche editoriali, idee e opinioni. Vediamo adesso come titola primo piano Molise, Regione, quel vergognoso privilegio chiamato vitalizio. È il titolo in evidenza. La presidenza di Palazzo d'Aimmo ha pubblicato l'elenco, aggiornato ad agosto 2016-81, gli ex consiglieri baciati dalla Dea Bendata. Chi ha lavorato più a lungo percepisce 5.000 euro al mese, i più poveri 2.000. Le altre notizie, l'intervista De Matteis sogno, Molise normale, Iorio e Frattura, personalmente boccio entrambi, ha detto Rosario De Matteis. Poi l'epidemia, Bluetong parla, l'assessore Facciolla, monitoraggio a tappeto, ci sono i primi fondi per le vaccinazioni. Larino scoppia una rissa fra detenuti, allarme del SAP, il sindacato dice pochi agenti. Furto di rame e liquori, tre rumeni e un bulgaro, arrestati dai carabinieri, ingenti danni alla SATA Group, l'azienda prolunga le ferie per ripristinare gli impianti. Ladri in azione dunque nel nucleo industriale di Pozzilli. Poi ancora altre notizie. Venafro, il comitato ha deciso, pronti a portare al TAR la riconversione del Santissimo Rosario. Ieri l'incontro in ospedale sarà impugnato il decreto del commissario da Boiano. Si ripete il rito della fondazione di Boianum con i quadri del Versacrum. 300 figuranti e 15 attori mettono in scena la primavera sannita. Notizie dall'Abruzzo, da Casalbordino, si sente male in mare, muore l'abate della Basilica Madonna dei Miracoli. Per quanto riguarda le notizie di sport, il triangolare Lagnone beffa i lupi al Memorial di Tella. Al terzo posto i padroni di casa del Vasto Girardi. C'è poi l'analisi. Campobasso Novelli non ha fretta, niente ansia, dice cerchiamo giocatori con determinati valori. Eccellenza, Venafro e Isernia filano le armi per entrambe. L'obiettivo è tornare in serie D. Vediamo adesso la prima pagina del quotidiano del Molise. Alluvione 2008, sbloccati 5,4 milioni di euro. I fondi erogati dalla protezione civile sono destinati alle due province e ai comuni. I ladri puntano la zona industriale di Pozzilli, ma trovano i carabinieri ad aspettarli. In taglio alto, Alcide De Gasperi, un grande esempio di impegno e dedizione. Oggi il 62esimo anniversario della scomparsa dello statista. Bilancio, enti locali, dal 2017 entrate e uscite dovranno essere in pareggio. La riforma fissa e il conseguimento di un saldo non negativo. Poi Campobasso, il cinema impegnato, abbatte, barriere e diversità. Termoli, invece, dragaggio del porto, un ricorso in sabbia l'iter. Pressing per una legge ad hoc, soccorso alpino, scarse risorse e tanto lavoro. Sport, memorial di Tella, lupi battuti da Lagnone e vincenti di misura sul vasto Girardi. Vediamo adesso le prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo con la Repubblica. C'è questa fotonotizia in evidenza. Siria-Russia pronta alla tregua. Omran, il bambino ferito di Aleppo, sconvolge il mondo. ONU e Unione Europea, basta bombe. C'è appunto questa foto di Omran, cinque anni, tratto in salvo dopo un bombardamento ad Aleppo in Siria. Poi Merkel contro il Burka, frena l'integrazione. Berlino valuta il bando dagli uffici Cannes al mare tra divieti e soldati. Il Noi Rifugiati, profughi a Capalbio, l'ultima spiaggia della sinistra, il luogo simbolo dell'Italia radical chic, doveva dare una risposta diversa. Cannabis legale aiuta i giovani. Il Sidi Cantone riapre il dibattito. Vediamo adesso come titola il Corriere della Sera. Anche qui in evidenza la foto del bambino di Omran. Siria in agonia, aiuti bloccati. L'ONU ferma i convogli, troppo pericoloso. La Russia offre una tregua di 48 ore. Demistura ogni giorno razzi sui civili. Non cibo. Libia ha arrestato il reclutatore Isis in Italia. Sangue, polvere, orrore, la guerra sul viso di un bambino. Appunto la foto di Omran. Renzi annuncia tasse giù. Effetti sul modello Ryanair. Fisco attacco di 5 stelle. Lega al Premier una provocazione. Passiamo adesso a vedere il Fatto Quotidiano. 6 in crisi, assumi, boschi, junior, affari di famiglia. Il giovane commercialista e la coprosse in crisi. Emanuele, 33 anni. La CCC paga una consulenza da 150 mila euro. Dopo il caso di Pierfrancesco, assoldato dalla CMC di Ravenna. Un'altra cooperativa ricorre ai servizi di un parente del ministro, ex funzionario della Banca Etruria. Oggi lavora con il tesoriere del PD Bonifazi ed è pagato come un professionista affermato, scrive il Fatto Quotidiano. Poi la lettera, caro Mattarella, fermi quei test di medicina. Una neodiplomata, selezione incostituzionale. E poi la giunta raggi spende meno di tutte le altre. Daniele Frongia intervista al nuovo vice sindaco di Roma, Movimento 5 Stelle. La giudice divenuta capo di gabinetto. Parla troppo. All'Eppo la foto di Omram che sospende le bombe. Passiamo adesso a vedere la prima pagina di Libero. I profughi non vogliono lavorare. Accogliamo chi ci sfrutta. Pazza idea del capo dell'immigrazione, Morcone. Vuole affidare a chi arriva occupazioni socialmente utili, ma gli extracomunitari rifiutano di rimboccarsi le mani che preferiscono farsi mantenere dagli italiani, scrive Libero. Poi non rovinate questa foto con la retorica. Chi piange per il bimbo è lo stesso che l'ha ridotto, così scrive ancora Libero sulla foto di Omran. E poi i capi di Monte dei Paschi di Siena a profumo e viola indagati per falso in bilancio. Pensare che dovevano salvare la banca, scrive Antonio Spampinato. Da Libero passiamo adesso a vedere il tempo. Tante promesse. Zero fatti, due mesi flop della Raggi a Roma. La giunta grillina immobile tra caos, immondizia e stipendi d'oro. Finora nessun provvedimento determinante per la vita dei romani. Poi Italia più sicura calano i reati, ma non le pene i dati del Viminale. Un calo del 7% dei reati comuni commessi sul nostro territorio. Dal tempo passiamo adesso a vedere come titola la stampa di Torino. Inferno, Aleppo, fragile tregua sotto le bombe. Braccio di ferro tra l'ONU e la Russia Mosca per ora concede solo 48 ore. L'assedio della città siriana. La foto del bimbo ferito diventa un simbolo. Le Nazioni Unite dicono tragedia umanitaria. Merkel, il burka, ostacola l'integrazione, ma niente di vieti totali. La cancelliera apre a limitazioni parziali. In Germania, pronta la proposta di proibirlo alle manifestazioni, negli uffici e alla guida delle auto. Vediamo adesso come titola il manifesto. Cinque anni. Anche qui la foto di Omran. Nato in guerra, cresciuto in guerra, non ha mai visto un giorno di pace. Il piccolo Omran, salvato dalle macerie di Aleppo, è il volto senza voce del conflitto siriano. Si arrende anche l'ONU, che sospende la consegna degli aiuti e chiede di cessare il fuoco. Sì della Russia 48 ore di tregua a settimana, ma nessuna delle parti è disposta a negoziare. Poi legge di stabilità. La partita disperata di Renzi. Giù le tasse. Dal manifesto passiamo adesso al messaggero. Manovra, ipotesi, tassa per i giganti di internet. Uno dei titoli in evidenza. Il governo studia un prelievo sui profitti delle multinazionali web, fino a 3 miliardi i possibili incassi. Dal messaggero al mattino di Napoli. Italicum stop al doppio turno. È il titolo in virgolettato. Orlando, procedimenti sui magistrati. Non serve l'unanimità al CSM. Nomine lente. Il ministro della giustizia continua carcerazione preventiva. Altri 10 mila braccialetti elettronici. Dal mattino adesso ad avvenire. Il quotidiano dei Vescovi. Solo bombe su Aleppo e la sua gente. L'ONU forza per una tregua. Europa in pressing si russo. L'inviato delle Nazioni Unite sospende per protesta alla task force umanitaria. Il video dei soccorsi a un bambino. Scuote il mondo. E poi il 20 settembre Francesco Adassisi per l'incontro tra le religioni. Il secolo d'Italia. In evidenza questo titolo. Più canne per tutti. Il riferimento è alla liberalizzazione. Alla legalizzazione della cannabis. Poi in primo piano. Burkini è subito polemica. Cosa fare con le suore? Diamo lavoro ai profughi. Centro-destra all'attacco. Poi morto lo storico. Nolte equiparò Gulag e Lager. Dal secolo d'Italia al sole. 24 ore. Quotidiano economico. Il petrolio spinge le borse. Banche sotto pressione. BCA. Ogni shock riemerge la vulnerabilità del credito nell'area euro. Greggio ai massimi da inizio luglio. Il Brent torna sopra 50 dollari. Piazza affari. Più 0,88%. E poi statali 1,2 miliardi. Il peso dei contratti. Il costo del recupero dell'inflazione per il triennio 2015-2017. Aumenti medi da 20 euro. Così dunque il sole 24 ore. E adesso vediamo le notizie sportive con la Gazzetta dello Sport. La mia Juve è da oro a tutto. Elkan da Rio al calcio. John all'Olimpiade si scalda per la Champions. Iguain e Dybala coppia favolosa. Che fu l'immersion ai giochi. Basile l'emozione più grande sul campionato. Non vede l'Inter, Napoli e Roma. Le nostre rivali, dice. Poi la Serie A, secondo noi. Pipita da, secondo la Gazzetta dello Sport. Pipita da Scudetto. Banegalla. Novità. Piazza. Rivelazione. Il referendum tra i giornalisti della Gazzetta. Vede in pol la squadra di Allegri. Poi Roma, Inter e Napoli. E c'è questa foto. Gonzalo Iguain che abbraccia Bonucci. Domani c'è la Fiorentina per la Juve alla prima di campionato. Rio 2016. Palombelle rosa e schiacciate. La doppia sfida al Colosso degli Stati Uniti alle 20.30. Palla a nuoto per l'oro. Ore 18. Italvolley a caccia della finale, mancata ieri dal settebello. Trost e Rossit sognano nell'alto. Intanto alle 5 si è giocata la finale di Beachvolley tra Italia e Brasile. E l'Italia ha perso 2-0. Dunque oro al Brasile. Argento all'Italia con Lupo Nicolai. Mentre il bronzo è andato alla Russia. E poi c'è quest'altra notizia. Una rapina inventata. La lite da un benzinaio di Lochte e gli americani. Ed è la squadra di nuoto americana. Questa vicenda riguarda i nuotatori statunitensi. La vera stella è il Sassuolo. Playoff Europa League. Giovedì ritorno a Belgrado. Show della squadra di Di Francesco nell'andata con la stella rossa. A segno Berardi. Politano De Frel. Ed è il 3-0 che scrive La Gazzetta. Sta stretto al Sassuolo. Con La Gazzetta dello Sport termina la nostra rassegna stampa. Prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise. Come sempre in diretta alle 14 con il Tg. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.